Un altro albero caduto, le forte raffiche di vento hanno provocato l'abbattimento di un ficus Benjamin lungo il viale Duca d'Aosta a Trapani. Noi c'eravamo. Un ficus del genere che cade, avete potato le eritrine, ci preoccupiamo tutti per le eritrine e poi cadono i ficus, ma che è stata combinando in questo comune con il verde pubblico? Vabbè, quella è una causa legata allo stato dell'albero, infatti c'è una carie diffusa sul tronco quindi ovviamente la consistenza non era tale da sopportare alcuna. Cioè il fatto che non sia potato, per quel caso lì non vuol dire nulla. Quindi era marzo all'interno? Ha ceduto, ha ceduto. Era marzo all'interno? Sì, sì, questo è visibile. Immagini che vanno a badano, insomma, visionati adesso tutti gli altri ficus qua. Sì, certo, se dovrebbe ritornare a fare le attività di monitoraggio o valutazione di stabilità. Se ricordate bene, questi alberi sono stati nel 2016-2017 oggetto di uno step di valutazione di stabilità. È un elemento che serve per monitorare gli alberi, questo, verificarne le condizioni. Esterialmente è molto difficile andare a individuare una inconsistenza del fusto se non si fa un'indagine da parte dei professionisti, ovviamente. Ma si può combattere così in questa città? No, è chiaro che per fortuna non c'è stata una tragedia quest'oggi, ma non vuole essere assolutamente una scusa, anche perché lo sapete tutti che dal mese di luglio stiamo potando in interrottamenta. Purtroppo è venuto giù un albero che apparentemente era dato per sano. No, su questo viale abbiamo fatto tutte le ritrine, fino all'altro ieri abbiamo potato la stessa tipologia di albero nello slargo di via 30 Gennaio, qualche giorno fa sempre quest'albero in piazza Vittorio Veneto. Dovevamo venire qua e oggi purtroppo abbiamo avuto questa spiacevole sorpresa. Dobbiamo andare avanti con le potature, abbiamo ancora mezza città da fare. Ma qua non è solo una questione di potatura, da quello che mi è stato detto prima, ma va fatta un'analisi seria dei fussi di questi alberi? Va fatta un'analisi seria, sono assolutamente convinto che è certo che i funzionari del Comune di Trapani negli anni le abbiano fatte, quindi adesso andrò a vedere le carte e così vediamo un attimino di chiarire alcune cose, perché è giusto che i cittadini sappiano, anche perché come sapete io non sono mai particolarmente morbido su queste vicende. E quindi adesso vediamo il da farsi e chiaramente la politica deve fare la sua parte. Intanto abbiamo, avete recintato, ora che fa? Quanto lo teniamo questo albero così? Mi auguro non più di 24 ore. Ecco la notizia del giorno, ci fermiamo qui, io vi aspetto tra poco come sempre con tutte le altre notizie. Emergenza rifiuti, l'impianto della Trapani Servizi è stato chiuso, i RSU dovranno essere trasferiti a Catania con un aumento dei costi. Lavori in corso, diversi interventi si stanno eseguendo in varie aree verdi della montagna di Erice. In seguito è arrestato protagonista della vicenda un trapanese che non si era fermato all'alto dei carabinieri. Standing ovation per i Sanzoni, appressatissimo dal pubblico dell'Ariston, lo spettacolo del duo comico Sogno a tempo determinato. E poi lo sport, vogliamo far sognare. In una lunga intervista l'allenatore della Trapani Shark, Daniele Parente, si racconta. Un nuovo parco a Trapani, ultimati lavori dell'area verde tra le vie Marsala e Salemi, che conferma il suo alto potenziale naturalistico anche se alle porte della città. Ancora un buongiorno da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. In provincia è emergenza rifiuti a causa della chiusura dell'impianto della Trapani Servizi. Vediamo. C'è una nuova emergenza a Trapani, non solo in città, ma nell'intera provincia. Quella sui rifiuti. L'impianto della Trapani Servizi, dove conferiscono ben 78 comuni, è fermo. Ma cosa è successo? Presto detto. A Trapani i rifiuti vengono trattati e i residui del trattamento meccanico-biologico degli RSU arrivano poi a Gela. Il trattamento così viene analizzato e non deve superare un valore stabilito dalla legge. Un controllo che è stato effettuato nell'impianto di Gela, però, ha evidenziato un valore superiore per i rifiuti trattati a Trapani e di conseguenza la Trapani Servizi si è dovuta fermare. È una situazione non grave, ma ancora di più gravissima. Non possiamo più conferire alla Trapani Servizi il rifiuto secco, cioè l'indifferenziato. Da un decreto regionale, lì dobbiamo conferire, nella discarica di Catania, ad un costo superiore, fosse il doppio di quanto conferivamo sulla Trapani Servizi, a tonnellata, credo che sia sui 320 euro a tonnellata. E c'è anche un costo di trasporto che ci giriamo sui 1.200 euro. Di conseguenza uno studio così sommario che abbiamo fatto sulle spese che andiamo a sostenere mensilmente, credo che ci giriamo sui 200.000 euro al mese. Credo che un comune come Erice è insostenibile questa spesa. Io credo che tutti i sindaci si dovrebbero unire e chiedere alla regione di andare in deroga su questa normativa nazionale. Quali sono i consigli che si possono dare ai cittadini per evitare una nuova emergenza rifiuti? Il consiglio che si va a dare ai cittadini è di fare la differenziata corretta, perché facendo una differenziata corretta noi andremo a fare un indifferenziato, c'è pochissimo indifferenziato. Quindi tutti gli abbandoni che noi vediamo sul territorio, che credo siano sotto gli occhi di tutti, in modo particolare in alcuni rioni dove, parlo di San Giuliano, dove fanno pochissimo la differenziata, ritengo che devono necessariamente farla, così che diminuiamo notevolmente il rifiuto secco. Adesso ci spostiamo a Paceco, dove è stata avviata la riscossione coattiva dei tributi in sospeso. Il Comune di Paceco si prepara ad un'importante iniziativa, l'avvio delle procedure di riscossione coattiva per recuperare i tributi in sospeso. Il provvedimento mira ad ottimizzare i servizi comunali, assicurando un eco peso fiscale per tutti i cittadini. Sindaco ed Assessore al Bilancio, infatti, hanno annunciato che i debitori saranno contattati per regolarizzare la propria situazione, offrendo loro un supporto tramite un servizio telefonico dedicato. I debitori di importi fino a 10.000 euro riceveranno un preavviso di sollecito, ovvero un invito formale al regolare adempimento entro un termine specificato. Nel caso di mancato pagamento, si procederà alla notifica di avvisi di intimazione, con successiva attivazione. I debitori di importi superiori a 10.000 euro, invece, riceveranno intimazioni di pagamento, ovvero un avviso ad adempimento entro il termine di 5 giorni per evitare la procedura di pignoramento. È fondamentale, secondo l'amministrazione, che i tributi vengano saldati per garantire servizi di qualità alla cittadinanza. Inoltre, sono state previste esenzioni e riduzioni per le fasce più deboli della popolazione. Il sindaco ha sottolineato che il mancato pagamento dei tributi potrebbe gravare sui contribuenti onesti, aumentando il rischio di servizi meno efficienti. Un appello è stato dunque rivolto ai cittadini, affinché collaborino per regolarizzare la situazione debitoria. Sono in corso ad Erice i lavori previsti per la valorizzazione naturalistica delle aree Natura 2000. Sul versante dei runzi sono scattati dei lavori di pulizia e di scerbatura che stanno riguardando anche degli antichissimi alberi. L'intervento di salvaguardia ambientale rientra nell'ambito di un progetto a suo tempo presentato dal Comune di Erice e finanziato dalla Regione nell'ambito dei fondi europei della programmazione 2014-2020. Si tratta di una pianificazione molto ampia che ha visto gli uffici del Comune impegnati per intercettare i fondi e programmare i lavori che stanno riguardando anche il Baglio, il Cordone Verde dei Runzi e alcune parti del Bosco del Monte, tutte aree che ricadono nella rete Natura 2000, che sono vincolate come ZSC, ovvero zone speciali di conservazione e quindi di particolare interesse per quel che riguarda il patrimonio ambientale. Il progetto esecutivo è stato predisposto dall'ingegnere Gianluigi Pirrera, direttore dei lavori che in queste settimane sono stati seguiti sul campo dall'esperto agroforestale Giacomo Coppola. Fu proprio lui che nel 1977, quando era in servizio alla forestale, proprio ad Erice, si accorse della presenza dei ciliegi canini. Si tratta di meravigliosi alberi secolari, molto antichi e dall'alto valore naturalistico. Per cui, tre anni fa, dopo che venne interpellato da Coppola anche l'architetto paesaggista Pietro Pedone e successivamente lo stesso Pirrera, venne presentata apposita richiesta di iscrizione nel registro delle piante monumentali. Ed in questo progetto, dove Giacomo Coppola è stato chiamato a collaborare proprio dallo stesso Pirrera, rientrano anche i ciliegi canini del monte, con precisi interventi che hanno riguardato la zona del versante dei Runzi, sotto la torretta Pepoli. Tra l'altro, sarà fatto uno studio botanico da parte dell'agronomo Leonardo Scuderi. Insomma, si sta cercando di approfondire il valore naturalistico di questo angolo della montagna di Erice, ad un trio di schioppo dal Castello di Venere. E nell'ambito dei lavori di pulizia, che vedono come direttore operativo per il comune di Erice, Giuseppe Di Lotta, sono stati scoperti altri nove ciliegi canini, che si vanno ad aggiungere ai cinque già noti dagli anni settanta. Nel versante dei Runzi, dunque, ci sono in tutto 14 di queste meravigliose piante, che raccontano una storia antica, per certi aspetti ancora tutta da approfondire. Ci fermiamo, ma solo per un attimo. In seguito è arrestato protagonista della vicenda, un trapanese che non si è fermato all'alte dei carabinieri. Standing ovation per i Sanzoni, apprezzatissimo dal pubblico dell'Ariston, lo spettacolo del duo comico dal titolo Sogno a Tempo Determinato. E poi lo sport, vogliamo far sognare. In una lunga intervista, l'allenatore della Trapani Shark, Daniele Parente, si racconta. Riprendiamo con la cronaca. Un trapanese di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento in auto. Alla guida di un'auto senza copertura assicurativa non si ferma all'alte minacce ai carabinieri. È accaduto a Trapani, protagonista della vicenda. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per il reato di resistenza pubblico ufficiale. A bordo di un'auto, mentre stava percorrendo la via Trent Alberti, si è imbattuto in un posto di blocco. I militari dell'arma gli hanno intimato di fermarsi per procedere ad un controllo. Il conducente, invece, si dava alla fuga e è tentativo di far perdere le proprie tracce. Bloccato dopo un breve inseguimento, sceso dall'abitacolo, il 45enne avrebbe infeito contro gli uomini in divisa, minacciandoli. Per lui, pertanto, è scattato d'arresto. La macchina, risultata da un controllo sprovvista di assicurazione, è stata sottoposta a sequestro. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice, con il contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne. Tunisia Marsala, la rotta del business. Emergono nuovi particolari sull'operazione messa a segno nei giorni scorsi dalla polizia. Un business da capogiro sulla rotta Tunisia-Sicilia. Il traffico di esseri umani, oltre ad affinare le tecniche, diventa infatti sempre più redditizio. Basti pensare che uno degli indagati avrebbe versato sul conto di un complice la somma di 90 mila euro. Del resto, per raggiungere dalla costa settentrionale della Tunisia il litorale di Marsala, ogni singolo migrante arrivava a sborsare fino a 6 mila euro. E quanto emerso dall'operazione internazionale, culminata nei giorni scorsi, nello smantellamento di due cellule collegate tra loro. 12 gli indagati, squadre mobili di Trapani e Palermo, personale dello SCO Europol e Polizia Tunisina, hanno ricostruito il traffico di clandestini allestito da una organizzazione suddivisa appunto in due cellule. Una operava a Marsala, l'altra invece in Tunisia. Viaggi da VIP. Da un appartamento in via Buccola a Palermo, dove stava scontando i domiciliari, il tunisino Montasar Bouoisha organizzava i viaggi. E' lui l'uomo chiave dell'inchiesta, condannato in primo grado a 10 anni e 7 mesi per gli stessi reati. Al vertice dell'organizzazione c'era però Zied Kemiri, che coordinava il gruppo tunisino. A ricoprire un ruolo apicale anche il marsalese Vincenzo Gandolfo e un ex poliziotto tunisino, Jalel Ben Youssef. Sarebbe stato lui, sfruttando le sue conoscenze, a organizzare l'affare migranti. Ad occuparsi della logistica e dell'acquisto dei gommoni erano invece i marsalesi Vincenzo Salvatore Bilardello, Roberto Pietro Arini, Claudio Di Bernardo, Antonio Salvatore Cordio e il salemitano Baldo Augusta. A ricoprire il ruolo di scafisti, infine, sarebbero stati Mohamed Walid, Ben Salem, Kabil Gribi e Najib Ammar. Sono ore di angoscia quelle che si stanno vivendo a Calatafimi Segesta per la scomparsa di un anziano. Giallo a Calatafimi Segesta, dove da più di 24 ore non si hanno più notizie di un anziano. Si tratta di Salvatore Mancuso, 80 anni, che sembra essere sparito nel nulla. Il pensionato a bordo della sua auto, una Citroen di colore grigio, si è allontanato da casa senza fare più rientro. La famiglia, aiutateci a ritrovarlo. Anche il sindaco Gruppuso ha lanciato un appello. Chiunque abbia notizie, contatti subito le forze dell'ordine. La foto dell'anziano è stata pubblicata sui social. In tanti l'hanno condivisa nella speranza che Salvatore Mancuso possa fare il ritorno a casa sano e salvo. Le ricerche però per il momento non hanno dato alcun risultato. Passate al setaccio tutti i luoghi che l'anziano era solito frequentare. Di lui però nemmeno l'ombra. E più passano le ore, più cresce l'apprensione che al pensionato possa essere accaduto qualcosa di grave. A partire dal primo marzo sarà potenziata l'attività della veterinaria ambulatoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Sarà potenziata a partire da marzo l'attività della veterinaria ambulatoriale dell'Asp di Trapani. Il dirigente Ferdinando Croce, nominato ad inizio febbraio, ha infatti autorizzato un incremento delle ore che così passano a 30 settimanali. Si tratta in particolare di personale medico veterinario che agisce in regime di convenzione a tempo indeterminato ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale. Il potenziamento orario è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e si inserisce in una più ampia pianificazione di attività di contrasto al randaggismo e alle malattie infettive e di controllo alimentare. E intanto, proprio per contrastare il randaggismo, il Comune di Favignana ha avviato una campagna di sterilizzazione dei gatti randaggi a marittimo, così da fornire una soluzione strutturale all'emergenza sanitaria generata dalla presenza di felini sull'isola. Questa iniziativa è il risultato di uno sforzo collaborativo tra il Comune di Favignana, il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e i privati cittadini, ha detto il Sindaco Francesco Forgione. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e in particolare il Dottore Gianfranco Gioffre per avere generosamente concesso i locali in cui allocare l'ambulatorio, rendendo possibile l'avvio del progetto. Invitiamo la comunità a sostenere attivamente questa iniziativa per un ambiente più sano e sicuro per tutti. Apprezzatissimo dal pubblico del Cineteatro Ariston lo spettacolo dei Sanzoni, è andato in scena ieri sera nell'ambito della rassegna teatrale con la direzione artistica di Alessandro Costa. Sold out e applausi per Fabrizio e Federico Sanzone, conosciuti come i Sanzoni, che ieri sera hanno divertito ma anche fatto riflettere il pubblico dell'Ariston con l'inedito spettacolo Sogno a Tempo Determinato, uno storico di battute e schezzi ma anche di riflessioni sull'amore, sulla politica e sulla società. Fra l'altro è uno spettacolo che parla di quanto è difficile essere giovani oggi, quindi diciamo che ci tocca da vicino mancanza di lavoro, mancanza di condizioni essenziali per vivere nella società, insomma uno spettacolo di fantascienza. Sì, tutto inventato, non è che in Italia non c'è lavoro, no? Tutto inventato, tutto con l'intelligenza artificiale l'abbiamo scritto. C'è tutti i GPT, sì sì sì. Beh, diciamo che è un po' come dire, un voler esorcizzare il fatto che il lavoro a tempo determinato spesso è quello che non ci dà il futuro, no? Non ci fa vedere bene. Ormai la nostra generazione si ritrova pure a sognare a tempo determinato perché... Chi ha la nostra età non si può permettere di pianificare un viaggio, pianificare una vita, dice vada a vivere con la mia ragazza oppure vada a vivere da solo. Che solitamente questo è un ragionamento che facevano i ventenni, no? Oggi noi trentenni siamo i nuovi ventenni, quindi siamo... I quarantenni sono i nuovi trentenni, ma è tutto a scala, a scaglioni, a scaglioni. No, non rompere, no, 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 assolutamente, assolutamente. Beh, intanto nasciamo da una vita, nasciamo dalla stessa madre, questo lo volevamo dire perché siamo fratelli nella vita, ma anche, purtroppo, forse, sul palco. Come purtroppo? No, vabbè, io lo dico, purtroppo lo dico, tanto parliamo dopo. No, nasce da... Un'esigenza. Un'esigenza, ma un'esigenza naturale, cioè la cosa bella è che noi non ci siamo mai spiegati qual è... Molti ci chiedono magari qual è la magia di quello che... No, noi non lo sappiamo. Se qualcuno lo scopre, fatecelo sapere. Scriveteci, magari ci ha scrivete un'email. Esatto. Chiedete per un amico. Noi siamo semplicemente noi stessi, quindi la risposta a questa domanda è questa. Noi, da come nasce tutto? La risposta alla domanda è la carta di identità. Esatto, noi. Per gli appuntamenti sul nostro gruppo editoriale, oggi alle 18.15, sulla nostra pagina Facebook, trasmetteremo la diretta della terza scinnuta, la caduta al Cedron, del Ceto dei Naviganti, e Gesù dinanzi ad Anna, Ceto dei Frutti Vendoli. Sul canale 88 del Digitale Terrestre, invece, questa sera alle 21 e alle 23, torna Respubblica Sicilia, chiama Europa in studio con il nostro direttore Nicola Baldarotta, l'onorevole Giuseppe Bica. Poi alle 22 riproporremo la settima puntata della trasmissione a casa mia con Vittoria Benante. E adesso prendiamo un attimo di respiro e poi torniamo con lo sport. Eccoci qui puntuali con lo sport e il calcio. Domenica alle 15.30 al provinciale il Trapani affronterà la San Cataldese per la ventotesima giornata del campionato di Serie D. A dirigere l'incontro sarà il signor Maxime Frasiniac di Gallarate, i suoi assistenti Alexandru Frunza di Novi Ligure e Federico Giovanardi di Iterni. Ovviamente nell'edizione del TG di domani ascolteremo le parole di mister Torrisi che presenterà il match. Andiamo invece adesso al basket. Domenica la Trapani Shark non giocherà per permettere a Mobio e Pugliatti di giocare con le rispettive nazionali della Costa d'Avorio e del Venezuela. e l'abbiamo ascoltato proprio Fabrizio Pugliatti. Fabrizio, cos'è per te la nazionale? Per me la nazionale innanzitutto è un gran orgoglio andarci, anche a questa età che ho, comunque è sempre un onore rappresentare il paese da dove sei nato e anche un modo per rappresentare anche la tua famiglia. Che partiti ti aspettano? Due partite contro la Colombia, molto dure. Dobbiamo iniziare secondo me con il piede giusto queste due partite, vincendole per poi andare avanti con le seguenti finestre. Nelle altre finestre invece chi affronterete? L'Argentina e l'altra Cile. Cosa racconterai di Trapani ai tuoi compagni, comunque alla gente venezuelana che incontrerai? Innanzitutto il tempo è molto simile al tempo di là di casa mia. Comunque anche la gente è molto calorosa, la gente qua ti vuole bene e ti fa sembrare come se stai sempre a casa. Approfittando di questa pausa, l'ufficio stampa della Trapani Shark ha realizzato una lunga e bella intervista a coach Daniele Parente. La versione integrale la trovate ovviamente sulla pagina Facebook e sulle pagine ufficiali della Trapani Shark. Noi in questo servizio abbiamo voluto riassumere le parole dell'allenatore Granata. Un legame quello tra coach Parente e la città di Trapani che affonda le radici nel lontano 2008 in occasione della palla rubata a Virgilio da capitano di Brindisi che regolò la promozione ai pugliesi e lo sconforto ai Granata. Ma la vita per lui aveva altri piani e ora proprio Parente guida la Trapani Shark in questa stagione dei record e dei sogni. In una lunga intervista curata dall'ufficio stampa con Fabio Tartamella, la coach Parente parla della sua squadra, del campionato, del suo sentire come allenatore, del presidente Antonini, di calcio, del suo paliruolo Torrisi e dei tifosi. Uno sguardo a 360 gradi su un uomo che incarna lo spirito del basket trapanese. La vita fa giri strani e quindi dopo poco tempo siamo qua in quella che posso dire per ovvi motivi ora è diventata la mia città perché è la città di mia moglie, la città dove è nata mia figlia, è una città che amo, dove vivere secondo me per il lavoro che faccio, quello che mi piace fare, non ha uguali da nessun'altra parte, quindi diciamo che se il giro è stato questo, benvenga che sia stato fatto questo giro. Un momento del campionato delicato, questo della fase dell'orologio, in cui servirà a tenere alta la concentrazione in vista dei play-off che potrebbero, il condizionale d'obbligo, portare all'obiettivo della squadra e del presidente. È un valore aggiunto favoloso, credo che come il nostro presidente nel nostro sport specifico non ce ne vorrebbero di più perché siamo in un periodo un po' di stasi, benvenga gente che vuole investire soldi nella pallacanestro, è ovvio che questo porta delle responsabilità in più, però la sua visione futuristica anche nell'immediato è contagiosa, ha la capacità di renderti partecipe delle sue idee immediatamente e quindi è stato chiaro fin da subito che chi faceva parte del suo progetto doveva avere in mente solo un obiettivo. Quindi la ricerca poi del roster è stata anche fatta in questa ottica, cioè di cercare un mix di esperienza di giocatori che abbiano già vissuto l'esperienza di vincere un campionato o di provarci insieme a altri giocatori che nella nostra testa possono farlo. Ma sicuramente il presidente è un valore aggiunto e possiamo soltanto dire grazie per l'opportunità che ci sta dando. Un pensiero in conclusione anche per i tifosi Granata. Io credo di essere privilegiato e di poterlo comprendere meglio insieme a Re, insieme a Andrea, insieme a Marco Mollura, insieme a qualcuno, allo staff che ha lavorato con me da diversi anni perché abbiamo vissuto momenti dove c'era meno coesione col tifo. Quindi riscoprirlo ora e vederlo ora per la prima volta, io non l'avevo mai visto a Trapani, sapevo, ma non l'avevo mai toccato realmente così. È qualcosa di incredibile, lo vivi nella vita quotidiana. Chi è venuto da fuori ovviamente è rimasto piacevolmente sorpreso. Credo che però bisogna scindere le due cose. Credo che se siamo intelligenti dobbiamo continuare a far sognare, perché è bello far sognare il tifoso, ma il tifoso può sognare. Noi dobbiamo essere concentrati a mirare l'obiettivo che ci siamo prefissi, che non vuol dire non sognare, ma vogliamo far sognare, che è una cosa diversa e secondo me molto più bella. Sogniamo tutti insieme, allora grazie coach. Grazie a te. Ultimati a Trapani, lavori di pulizia e scerbatura nel boschetto di via Salemi, l'area verde che si trova tra lo scorrimento veloce e la via Marsala. Questo è il servizio dell'approfondimento di oggi. L'aria è stata letteralmente rimessa a nuovo e adesso si parla di realizzare un vero e proprio parco, con panchine, cestini ed un impianto di illuminazione. Un progetto già prospettato dagli uffici del Comune di Trapani e per cui, fanno sapere da passo da lì, si sta lavorando in questi giorni. Intanto nella zona vanno a passeggiare sempre più cittadini, in molti casi con i cani a guinzaglio. L'alto potenziale naturalistico di questa piccola oasi verde nel bel mezzo della città è confermato da tutta la bifauna presente in quest'area, tra gli albi del boschetto ed il prato dove, dopo i lavori di pulizia dei mesi scorsi, da settimane si vedono le cicogni che stanno svernando a Trapani. Questa zona, per ora, sembra proprio essere diventata casa loro. Ha un potenziale grandissimo, dobbiamo considerare che Trapani come città ha pochissimo verde, quindi quel poco verde che abbiamo dobbiamo mantenerlo e sfruttarlo al massimo. Il verde non soltanto è natura, ma è anche benessere psicologico. Dobbiamo dire che la gente che viene a contatto con la natura sente appunto questo ritmo nella natura e quindi riesce a rilassarsi e a vivere meglio, quindi il verde serve. Noi abbiamo poi questa zona di verde che è alle spalle della riserva Saline di Trapani, che è un'importantissima oasi di biodiversità, un vero e proprio hot spot con tantissime specie. Ovviamente la riserva è lì, ma gli animali mica conoscono i confini, per cui è facile che si allontanino alla riserva per venire qui a nutrizio o anche a nidificare. Sarebbe appunto bellissimo come gesto piazzare qui un palo con un nido per permettere a queste cicogne, che sono sicuramente un'attrazione della città in questi giorni, per permetterli di nidificare. E così si avverrebbe appunto, sicurerebbe quel ciclo di natura e uomo che è giusto che ci sia, cioè è giusto che noi non possiamo escludere animali dalla nostra vita. E tra le ipotesi in campo ci sarebbe quella di fare un nido artificiale per le cicogne proprio in quest'area, mentre per le tante specie di uccelli presenti si potrebbero mettere dei piccoli nidi casette per la vifauna, come si fa altrove. Siccome le cicogne bene o male sono proprio animali sinantropici, cioè che vivono a stretto contatto con l'uomo, la maggior parte dei nidi in realtà utilizzano appunto strutture fatte dall'uomo, che possono essere o i pali della media tensione, oppure le case, ad esempio il Nord Africa, i tetti. Quindi basterebbe piazzare un palo sopra una piattaforma in modo da permettere all'animale di collocare lì il suo nido e poterli nidificare. Consideriamo che le cicogne, come abbiamo già visto, non hanno paura dell'uomo, quindi non è necessario andarle a piazzare in un posto diciamo selvaggio, ma quest'ambiente qui va benissimo e sarebbe una vera e propria lezione di educazione civica e ambientale per i trapanesi, cioè convivere gli animali con l'uomo è possibile e fa bene. Sarebbe una fattoria didattica per i ragazzi che quasi accosterebbero la natura e potrebbero vedere animali particolarmente visibili come le cicogne. Ma esistono pure tante altre specie, magari poco visibili per chi non ha un occhio attento, però che nidificano che si trovano qui durante tutto l'anno. E quindi abbiamo le cince, i vetti rossi, i codi rossi spazzacamini, gli storni, i passi, tutta una serie di uccelli che ci rallegrano pure la giornata con i loro cinguetti e i loro canti.